Durante la famosa intervista a Oprah Winfrey a marzo, Meghan Markle ha affermato che un membro della famiglia reale ha sollevato preoccupazioni su quanto sarebbe stata scura la pelle del suo bambino e cosa significherebbe o assomiglierebbe diverse conversazioni sono state fatte all'interno della famiglia reale sul colore della pelle di Archie prima che nascesse, afferma il biografo reale Omid Scobie la duchessa del Sussex ha affermato durante la famosa intervista di Oprah a marzo che un reale ha espresso preoccupazioni su quanto sarebbe stata scura la pelle del suo bambino e cosa significherebbe o sembrerebbe. Punto punto. Il signor Scobie, un giornalista che ha coscritto Finding Freedom, Harry and Meghan and the Making of a Mother Royal Family, ha parlato ieri a un evento della Foreign Press Association. Ha detto. C'è stata una conversazione che li ha colpiti in modo massiccio. Quando si è trattato di qualcuno all'interno della famiglia reale che condivideva preoccupazioni sul colore della pelle di Archie. A Harry posso vedere come una conversazione. A Meghan che sarebbe stata coinvolta nelle conversazioni di follow-up che posso vedere perché c'erano altre persone a conoscenza di questa conversazione all'interno della famiglia e all'interno dell'istituzione. Che hanno anche parlato di esso? Alcuni non così comprensivo. Quindi sei in una posizione in cui inizi a sentire. Beh, non è solo questa persona. Sono anche altre. E diventa un problema molto più grande. Quando gli è stato chiesto se sapeva chi ha fatto i commenti, il signor Scobie ha detto. Passato. Il giorno dopo che le affermazioni di Harry e Meghan nell'intervista sono state trasmesse l'8 marzo nel Regno Unito. Buckingham Palace ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che la famiglia reale era addolorata e che le questioni sollevate erano preoccupanti. Una dichiarazione rilasciata a nome di sua maestà alla regina ha dichiarato. Tutta la famiglia era attristata nell'apprendere quanto siano stati difficili gli ultimi anni per Harry e Meghan.